L'integrazione dei disabili passa attraverso la creazione di una rete e la valorizzazione delle sinergie tra istituzioni. È per questo che la cooperativa Il Sentiero ha promosso al Teatro Comunale Diana di Nocera Inferiore, nell'ambito della settimana per il benessere psicologico in Campania, una tavola rotonda intitolata l'integrazione verso l'altro disabile. A suggellare il convegno uno spettacolo teatrale che ha visto la partecipazione di alcuni ragazzi diversamente abili. La disabilità mentale è un problema serio, le famiglie hanno una difficoltà nella gestione, specialmente quando poi questi ragazzi diventano adolescenti, per cui è una cosa multidisciplinare che riguarda anche il mondo della scuola, l'accompagnamento oltre il periodo dell'adolescenza anche nell'età adulta. In questo stiamo lavorando in maniera molto attiva, abbiamo fatto appena come regione una nuova legge regionale che è molto sensibile e molto attenta ai bisogni delle famiglie e a ricevere le richieste anche quelle più svariate. Questa serata ci serve innanzitutto per creare una rete tra le varie istituzioni del territorio e soprattutto perché vogliamo proporre delle metodiche scientificamente validate. Purtroppo, tra le altre cose, è una realtà che investe molte popolazioni sia direttamente che indirettamente, tutti abbiamo a che fare negli ultimi tempi inspiegabilmente con questa realtà e quindi abbiamo pensato noi della cooperativa Il Sentiero di fare questa serata, di organizzare questa serata proprio affinché possa essere una serata dove le famiglie e tutti coloro come noi abbiamo a che fare con gli autistici sia direttamente che indirettamente, possiamo avere delle delucidazioni, delle spiegazioni e delle idee chiare su come fare, cosa fare, cosa si può fare, a chi rivolgersi e soprattutto anche dei chiarimenti su una nuova legge regionale che è stata recentemente fatta dalla regione Campania e quindi anche le famiglie possono avere un'idea chiara su quali sono i loro diritti, quali sono le possibilità che questa legge può offrire per i trattamenti e per la realtà che loro vivono.